E' qui sotto, ora non lo vedete ma c'è il lago del Mulino, sotto il castello di Lerma. E' qui che quest'estate quella ragazza è stata aggredita da quel mostro che poi è fuggito. L'attacco è avvenuto qui, in questo lago. Poi quello strano essere, quella bestia, si è allontanato e si è infilato là in mezzo. Grazie.